Benvenuti a tutti e benvenuti a questo incontro in cui tratteremo una tematica forse molto gradita a tutti coloro che intendono effettuare elaborazioni sui dati elementari delle indagini condotte dagli enti del Sistan, dall'Istat. Parleremo infatti degli aspetti gestionali di un laboratorio per l'accesso ai dati elementari da remoto. Mi presento, io sono Mara Camarrota, responsabile del servizio gestione e diffusione del patrimonio informativo. Nell'ambito del servizio curiamo la diffusione di tutte le informazioni statistiche prodotte dall'istituto sotto forma di macrodati, ad esempio diffondiamo attraverso il nostro corporate data per house i.stat o macrodati attraverso tavole di dati, attraverso pubblicazioni scientifiche, prodotti editoriali integrati. Ancora il servizio cura l'archiviazione e la conservazione dei microdati dell'indagine dell'istituto, un patrimonio informativo contenuto nel nostro archivio Armida che viene utilizzato per soddisfare le richieste che ci pervengono dagli enti del Sistan, piuttosto che dall'università, dagli enti di ricerca. Ancora un patrimonio informativo che viene messo a disposizione di ricercatori esterni all'Istat presso il nostro laboratorio di accesso ai dati elementari, un laboratorio fisico on site presente presso la sede centrale dell'istituto e presso le sedi territoriali. Ora l'intervento di oggi è proprio legato direttamente alle attività di questo servizio e quindi sono particolarmente lieta di partecipare alla presentazione dei primi risultati di una sperimentazione condotta da Istat insieme alla Banca d'Italia. Una sperimentazione che nasce in seguito a una innovazione nella normativa relativa ai dati elementari. Finalmente il legislatore ha inserito la possibilità per i ricercatori esterni all'istituto, esterni a qualsiasi ente titolare di dati elementari ha concesso la possibilità di accedere da remoto. Questa sperimentazione è proprio prevista da una direttiva Comstat, una direttiva del 2018 di cui parleremo più avanti. In questa direttiva si dà la possibilità a ogni ente titolare dei dati elementari di effettuare una sperimentazione, quindi collaborare con un soggetto identificato, individuato, collaborare per definire le caratteristiche dell'infrastruttura tecnologica, ma anche definire gli aspetti funzionali e organizzativi di un laboratorio di accesso da remoto. Ora a seguito di questo dettato inserito nella direttiva Comstat, l'Istat si è attivato, quindi ha scelto, ha individuato un partner, la Banca d'Italia, e per quello abbiamo iniziato questa sperimentazione. Oggi ascolteremo i primi risultati di questa sperimentazione, approfondiremo gli aspetti organizzativo funzionali del laboratorio di accesso da remoto, anche gli aspetti tecnologici. È un progetto che dal lato Istat ha visto la partecipazione di due anime del nostro istituto, da un lato la gestione, la direzione di diffusione comunicazione, di cui faccio parte anch'io, e dall'altro ovviamente la direzione delle tecnologie informatiche, in particolare il servizio che si occupa dell'infrastruttura IT in tutto l'istituto. Qui con noi abbiamo due colleghe che rappresentano le due anime che hanno collaborato nel progetto. La prima relatrice, Maria Assunta Scelsi, che lavora nel servizio gestione e diffusione del patrimonio informativo, di cui faccio parte anch'io, è responsabile del rilascio dei dati elementari, curando sia la conservazione dei dati col sistema Armida, sia le richieste che ci prevengono dagli utenti interni ed esterne. È altresì responsabile delle attività di gestione del laboratorio ADELE, laboratorio di accesso dei dati elementari fisico, presente qui in Istat. Erika Lucarelli è la seconda relatrice, invece è una collega della direzione delle tecnologie informatiche. Erika lavora proprio nel servizio che gestisce l'infrastruttura tecnologica di tutto l'istituto e si occupa in particolare, è responsabile operativo e tecnico di alcuni progetti informatici legati a laboratori in generale, inclusi ovviamente nel laboratorio ADELE. Ora inizierei direttamente per entrare nel vivo dell'intervento, quindi iniziamo con Maria Assunta Scelsi, che ci presenterà gli aspetti organizzativi funzionali del laboratorio di accesso ai dati elementari da remoto. A te la parola Maria Assunta. Grazie Mara e benvenuti. Oggetto di questa presentazione è proprio il laboratorio per l'accesso ai dati elementari da remoto. In particolare noi descriveremo gli aspetti organizzativi e procedurali. Vado a condividere le slide di presentazione e così possiamo iniziare tranquillamente. Allora andiamo pure con la prima slide. Eccoci, benissimo. offriremo innanzitutto una panoramica della materia di accesso per fini scientifici ai dati elementari del SISTAN e poi entreremo nel dettaglio dell'accesso ai dati elementari da remoto, quindi criteri generali, procedura e accordo di accreditamento tra le parti. La base normativa è rappresentata dalle linee guida per l'accesso a fini scientifici ai dati elementari del SISTAN adottate con direttiva Comstat numero 11 del 2018. Le linee guida fissano il principio generale e individuano le condizioni per l'accesso ai dati elementari. Quanto al principio generale possiamo affermare che gli enti del SISTAN possono consentire ai ricercatori l'accesso per fini scientifici ai dati elementari di cui sono titolari, ancorché privi di riferimenti che permettano l'identificazione diretta delle unità statistiche rispondenti. Relativamente alle condizioni per l'accesso bisogna dire che l'organizzazione a cui afferiscono i ricercatori che fanno richiesta di dati elementari deve essere un ente di ricerca riconosciuto dal Comstat o da Eurostat. I ricercatori dell'ente di ricerca riconosciuto dovranno presentare una proposta di ricerca e sottoscrivere una dichiarazione individuale di riservatezza. Una volta approvata la proposta di ricerca i ricercatori potranno ottenere il rilascio di dati elementari su cui sono stati applicati metodi di controllo per la tutela della riservatezza, i cosiddetti file per la ricerca o file MFR che dir si voglia. Altri sì accedere tramite laboratori anche da remoto a dati elementari cui non sono stati applicati ulteriori metodi di controllo per la tutela della riservatezza. Ora diciamo subito che le linee guida offrono un'ulteriore possibilità agli enti di ricerca riconosciuti di accedere a dati elementari cui non sono stati applicati metodi di controllo per la tutela della riservatezza e questa modalità è rappresentata dal protocollo di ricerca che l'ente di ricerca sottoscrive con l'ente system titolare dei dati per la realizzazione di un progetto di ricerca congiunto. Andiamo a vedere schematicamente che cosa succede quindi consideriamo il workflow di accesso ai dati elementari del system. Punto di partenza dicevo è un ente di ricerca riconosciuto ancora meglio è un'università, un ente di ricerca, un'istituzione pubblica o privata o loro strutture interne di ricerca che prioritariamente abbiano ottenuto il riconoscimento da parte del Comstat o di Eurostat. L'ente di ricerca riconosciuto presenta una proposta di ricerca all'ente del system titolare dei dati corredata della dichiarazione individuale di riservatezza dei ricercatori che avranno accesso ai dati elementari quindi non solo il ricercatore responsabile del progetto di ricerca ma anche gli altri ricercatori che avranno accesso ai dati. La proposta di ricerca viene valutata dall'ente del system titolare dei dati sulla base di criteri di valutazione che sono stabiliti dal Comstat, quindi scopo della ricerca, necessità dei dati richiesti, metodi utilizzati per l'analisi dei dati, risultati, benefici attesi ma anche modalità di diffusione dei risultati. Se la valutazione dà esito positivo la proposta di ricerca viene approvata e ne viene data comunicazione all'ente di ricerca riconosciuto a cui viene appunto comunicato di poter accedere ai dati elementari. L'ente di ricerca nella proposta di ricerca avrà individuato la modalità di accesso ai dati elementari quindi può aver scelto file MFR oppure può aver scelto di accedere e lo ripeto a file di dati elementari sui quali non sono stati applicati metodi di controllo per la tutela della riservatezza e questo potrà farlo soltanto tramite laboratori. L'accesso al laboratorio può essere sia fisico che da remoto, questo è quello che prevede la direttiva Comstat. In realtà oggetto della nostra sperimentazione è proprio l'accesso da remoto perché come ha già detto Mara esistono già dei criteri ed è già funzionante ed è già operativo il laboratorio fisico. Pensiamo per esempio al caso dell'ISTAT, dai primi anni 2000 l'ISTAT si è dotato di un laboratorio per l'analisi dei dati elementari, il laboratorio ADELE. In questo ambiente fisico, quindi una postazione fisica ai ricercatori viene data la possibilità di accedere ai dati elementari delle indagini di cui l'ISTAT è titolare. I dati elementari vengono resi accessibili in un ambiente virtuale protetto, non solo l'ambiente fisico è protetto ma l'ambiente virtuale su cui vengono depositati i dati è ovviamente protetto. L'unico vincolo per i ricercatori è rappresentato e sono ricercatori che conducono analisi statistiche sui dati in perfetta autonomia e dicevo l'unico vincolo è rappresentato dal fatto che una volta prodotto l'output, una volta ottenuto il risultato finale dell'analisi statistica, questo dovrà essere valutato dall'ente, in questo caso dall'ISTAT prima del suo rilascio. Nell'aiutare i ricercatori di enti di ricerca riconosciuti nelle analisi statistiche, l'ISTAT mette a disposizione non soltanto i dati elementari ma anche i relativi metadati ed un pacchetto di software per necessario che aiuta proprio nell'elaborazione dei dati. Qual è la differenza tra accesso fisico e accesso remoto? Allora in entrambi i casi i dati elementari rimangono sotto il controllo dell'ente sistema titolare dei dati, vengono resi accessibili in un ambiente virtuale protetto, l'abbiamo detto, ma mentre nel caso di un laboratorio fisico la postazione fisica è presso l'ente sistema titolare dei dati con l'accesso da remoto, con il laboratorio remoto la postazione è esterna e quindi è istituita presso il soggetto accreditato. Andiamo avanti nella nostra presentazione. Allora, vediamo, quindi stiamo entrando man mano nella materia dell'accesso ai dati elementari da remoto. La direttiva del Comstat numero 11 del 2018 ha fissato i criteri generali per l'accesso ai laboratori fisici. Questi criteri possono essere estesi ovviamente adattandoli in maniera opportuna anche ai laboratori remoti. Che cosa ci dicono? L'accesso ai microdati è consentito ai ricercatori di enti di ricerca riconosciuti e accreditati che siano prioritariamente autorizzati e identificati dall'ente del system titolare dei dati. Attenzione, accanto alla qualifica riconosciuti vi è la qualifica accreditati. L'accesso è limitato esclusivamente ai dati elementari indicati dai ricercatori nella proposta di ricerca. Il risultato dell'analisi dei dati che viene effettuata dall'ente di ricerca accreditato, quindi quello che noi definiamo output prodotto, deve essere controllato prima del suo rilascio da parte dell'ente del system titolare dei dati. Il laboratorio da remoto, alla stessa stregua di un laboratorio fisico, dispone di uno staff che è composto dal referente del laboratorio, referente per la sicurezza e la gestione informatica dell'accesso ai dati e almeno un altro addetto. Andiamo anche qui a guardare più in dettaglio come si esplica la procedura di accreditamento. Si parte con un bando pubblico dell'ente system titolare dei dati, il quale in base alla propria sostenibilità tecnica, economica, organizzativa, apre una finestra temporale entro la quale l'ente di ricerca riconosciuto può presentare una manifestazione di interesse ad accedere in remoto ai dati elementari di cui l'ente system è titolare. Quindi l'ente di ricerca riconosciuto presenterà una domanda di accreditamento che viene sottoposta a valutazione, ancora una volta in base a criteri di accreditamento stabiliti dal Comstat. Quali sono? Scopo del soggetto da accreditare e produzione di ricerca. Facciamo riferimento all'attività di ricerca to cura non solo progetti realizzati ma anche progetti in corso, adeguatezza della struttura organizzativa e misure adottate per la sicurezza e la gestione dei dati. Se la valutazione avrà dato esito positivo la domanda di accreditamento viene approvata e ne viene data comunicazione da parte dell'ente system titolare dei dati all'ente di ricerca riconosciuto che una volta sottoscritto l'accordo di accreditamento con l'ente system titolare dei dati assumerà la qualifica di soggetto accreditato. Quindi ci rendiamo conto che per accedere in remoto non è sufficiente che l'ente di ricerca sia riconosciuto, è necessario che sia accreditato dall'ente system titolare dei dati. Andiamo a guardare quindi quelli che sono i termini dell'accordo di accreditamento ovviamente sottoscritto dalle due parti. Esso che cosa prevede? I compiti e le responsabilità di ciascuna parte, le norme per il funzionamento e l'organizzazione del laboratorio, tutte le misure necessarie per la sicurezza dei dati, le tipologie di dati elementari che vengono resi accessibili, gli impegni di riservatezza assunti dal soggetto accreditato e le misure che dovranno essere adottate in caso di violazione, l'indicazione del responsabile del trattamento dei dati presso il soggetto accreditato e del responsabile per la protezione dei dati presso entrambi gli enti, gli eventuali oneri finanziari che gravano sulle parti, i controlli che l'ente del system titolare dei dati può fare al soggetto accreditato presso il laboratorio remoto e come in un qualsiasi contratto ovviamente troveremo durata a decorrenza dell'accordo, condizioni per la risoluzione e il recesso. Di questi termini noi andiamo a stressare il primo, compiti e responsabilità di ciascuna parte perché ci dà la possibilità di mettere a confronto lo staff del laboratorio dell'ente del system con lo staff del laboratorio dell'ente accreditato. Ovviamente consideriamo i compiti e le responsabilità principali. Allora, lo staff del laboratorio dell'ente del system comunica il nominativo del proprio responsabile alla controparte, valuta le proposte di ricerca e gestisce le richieste, quindi abbiamo una gestione centralizzata delle richieste presso l'ente system titolare dei dati, mette a disposizione i dati elementari per i quali è stato autorizzato l'accesso, forma lo staff del laboratorio remoto in materia di sicurezza dei dati e permettetemi di aggiungere che in quest'anno di sperimentazione la formazione ha riguardato anche aspetti organizzativi, gestionali, procedurali. Adotta le misure atte a garantire un sistema sicuro per l'accesso e l'elaborazione dei dati elementari, effettua come detto il controllo finale dell'output una volta che il progetto si è concluso e questo per verificare che sia garantita la riservatezza delle unità statistiche rispondenti. Andiamo allo staff del laboratorio dell'ente accreditato consente l'accesso ai soli ricercatori autorizzati identificati nella proposta di ricerca approvata fornisce loro supporto tecnico organizzativo, controlla il rispetto degli impegni sottoscritti nella dichiarazione individuale di riservatezza e in caso di violazione intraprende tutte le azioni necessarie, per esempio si verifica un data breach immediatamente lo staff del laboratorio dell'ente accreditato deve rimuovere le cause ma deve avvisare anche il referente per la sicurezza e la gestione informatica dell'accesso ai dati dell'ente system a titolare dei dati e quando qualora si verifichi anche una violazione di dati personali bisognerà darne comunicazione anche al garante della privacy. Ed ancora custodisce la dotazione fisica ed informatica dedicata al laboratorio remoto effettua, ma solo se richiesto dai suoi ricercatori, una prima valutazione dell'output e predispone un report quantomeno annuale degli accessi. La mia presentazione termina con questa slide è fin qui i primi risultati della sperimentazione Istat Banca d'Italia, almeno per quanto attiene agli aspetti procedurali e organizzativi. Stiamo definendo gli ultimi termini dell'accordo di accreditamento e non appena avremo contezza di tutti gli aspetti infrastrutturali e tecnologici Allora l'Istat concluderà la sperimentazione e partirà con un bando pubblico per dare la possibilità agli enti di ricerca riconosciuti di accreditarsi, quindi di accedere da remoto ai dati elementari delle rilevazioni di cui l'Istat è titolare. Grazie Maria Sonta, grazie di aver fornito un quadro molto dettagliato, grazie di aver presentato anche il contesto in cui si inserisce questa sperimentazione. Ora vediamo la soluzione che abbiamo individuato dal punto di vista tecnologico. Erika Lucarelli, a te il compito di chiarire ai nostri ascoltatori con quale modalità garantiremo un accesso da remoto ai dati elementari di un ente system e nel rispetto di tutte le misure di sicurezza necessarie. A te Erika. Grazie Mara e bentrovati tutti. Nella mia presentazione, un attimo che condivido la presentazione, parleremo appunto degli aspetti infrastrutturali e tecnologici del laboratorio per l'accesso ai dati elementari da remoto. In particolare inizieremo con il descrivere il contesto normativo di riferimento e quindi i requisiti che il laboratorio remoto deve soddisfare. Alla luce dell'esperienza maturata della sperimentazione tra Istat e Banca di Italia in corso, parleremo delle prime scelte fatte, quindi che riguardano soprattutto gli aspetti tecnologici infrastrutturali e la configurazione della postazione client. Andremo a parlare delle modalità di accesso e di indicazione dell'ambiente di lavoro che verrà fornito all'utente finale ed in ultima analisi esporrò gli ultimi passaggi che ancora devono essere fatti, quindi le ultime decisioni in corso di valutazione che ci porteranno alla conclusione della sperimentazione. La normativa di riferimento è sempre la direttiva Comstat numero 11 del 2018 che descrive le linee guida per l'accesso ai fini scientifici e dati elementari del SISTAN. I requisiti che un laboratorio deve rispettare riguardano l'isolamento del laboratorio dall'esterno. Questo isolamento deve essere sia fisico che informatico. Dal punto di vista fisico ogni ente, sia esso l'ente del SISTAN che il soggetto accreditato, deve locare il laboratorio in un ambiente separato dal resto degli uffici e dal resto dell'ente. E dal punto di vista informatico anche tutta la dotazione informatica deve essere separata dall'ambiente di produzione del soggetto in cui è presente il laboratorio. Il punto di accesso ai dati, ossia la postazione di lavoro, deve essere connessa direttamente all'ente SISTAN che è titolare dei dati ed ogni postazione di lavoro deve essere identificata univocamente e non è possibile nessun tipo di scambio di dato con l'esterno. Inoltre tutte le attrezzature di cui verrà dotato il laboratorio, siano esse fisiche che virtuali, dovranno essere presenti in un locale appunto dedicato e in quel locale solamente i ricercatori autorizzati potranno accedere. Ad ogni utente finale, quindi ad ogni ricercatore, dovrà essere assegnata un'utenza, quindi delle credenziali di autenticazione che devono essere assegnate, attribuite univocamente attraverso una procedura di identificazione e registrazione e tutte le operazioni svolte dai ricercatori devono essere tracciate e riconducibili a quel ricercatore. Inoltre, ciò che riguarda proprio l'accesso da remoto del laboratorio, nella direttiva Comstat è stabilito che tutte le attrezzature informatiche devono essere approvate, siano esse hardware che software, devono essere approvate dall'ente assistant titolare dei dati e è compito dell'ente assistant anche mantenerle aggiornate. Ed inoltre i dati devono sempre rimanere all'interno dell'ente assistant che ne è titolare. L'obiettivo di questa sperimentazione è proprio quello di ottenere un prototipo architetturale esportabile e replicabile presso tutti gli entri assistant. La prima decisione che è stata presa è stata proprio quella della scelta dell'end point, ossia della postazione fisica da utilizzare all'interno del laboratorio remoto. Avevamo due possibili strade da percorrere, utilizzare un dispositivo di proprietà dell'ente fruitore e quindi del soggetto accreditato, oppure utilizzare un dispositivo di proprietà dell'ente fornitore e quindi dell'ente assistant. Considerando i requisiti dettati dalla direttiva Comstat e quindi nonostante l'onere sia maggiore, la scelta finale è stata quella di dotare il laboratorio di una postazione fisica di tipo COPE che garantisse tutti i livelli di sicurezza e permettesse all'ente assistant di gestire centralmente tutta l'infrastruttura sia hardware che software del laboratorio. Il servizio erogato è in modalità kiosk. Ciò che invece è richiesto all'ente accreditato è semplicemente una connessione con accesso diretto ad internet. Questa connessione con accesso diretto ad internet permette all'ente accreditato di collegarsi direttamente con la piattaforma informatica dell'ente assistant titolare dei dati. proprio la centralizzazione del dispositivo permette all'ente assistant di fornire il soggetto accreditato di un dispositivo già preconfigurato e chiuso all'ambiente esterno in rispetto di tutti i requisiti dettati dalla normativa. Quindi l'utente finale si troverà una schermata di login dove inserirà le credenziali di accesso univocamente assegnate a lui e un ulteriore codice numerico che verrà generato automaticamente e che verrà ricevuto dall'utente finale attraverso un sms sul numero assegnato a quell'utente. Quindi l'accesso da remoto prevede un'autodidicazione forte. Una volta inserite le credenziali di accesso il ricercatore riuscirà ad accedere all'ambiente virtuale messo a disposizione dall'ente assistant. Nella slide si fa riferimento al laboratorio Adele che esiste all'interno delle sedi Istat. La piattaforma messa a disposizione del ricercatore non prevede solamente l'accesso ai dati elementari ma fornisce al ricercatore una serie di applicazioni per l'elaborazione degli stessi. La gestione centralizzata consente inoltre all'ente assistant di chiudere all'esterno la postazione fornita all'ente accreditato e quindi quella postazione fisica non potrà avere in alcun modo collegamento all'esterno attraverso internet o attraverso la rete dell'ente accreditato. Inoltre non sarà possibile collegare a quella postazione hardware esterni siano essi interfacce esterne tipo stampanti o scanner o memorie esterne di massa o lettori ottici e hardware e software non possono essere modificati quindi né installato nuovo hardware nel rimosso nuovo hardware o software. Ciò che ancora resta da fare è scegliere la modalità di accesso alla rete. Questa può essere o wired quindi con cavo di rete fisico oppure wireless ovvero con connessione wifi opportunamente configurata. Dopo aver deciso la modalità di accesso il passo successivo sarà quello di trasferire fisicamente il dispositivo presso i locali di Banca d'Italia e procedere ai test in loco. Alla fine dei test si potrà fare l'ultimo passaggio ossia definire gli oneri finanziari del progetto che graveranno su entrambi le parti sia dal punto di vista delle risorse informatiche che delle risorse umane. Grazie Erika. Grazie per la chiarezza con cui ci hai presentato dei concetti molto molto tecnici. Dunque le nostre relatrici ci hanno fornito una descrizione della futura costituzione del laboratorio di accesso ai dati elementari da remoto abbiamo visto gli aspetti organizzativi procedurali, tecnologici. Ovviamente si tratta di aspetti che richiederebbero molto più tempo per una disamina più dettagliata. Io vorrei approfittare del tempo che ci rimane a disposizione per arricchire le informazioni che avete fornito con un paio di domande. Maria Assunta una prima domanda per te. Abbiamo detto che la sperimentazione nasce a seguito di una normativa che prevede l'accesso da remoto, nasce a seguito del dettato delle linee guida di cui abbiamo parlato che prevede questa sperimentazione. Ora le linee guida prevedono criteri di riconoscimento, criteri per la valutazione dei progetti di ricerca, criteri per l'accreditamento dell'ente che avrà un accesso da remoto presso di noi. Mi domando, tutti questi criteri come si inseriscono nel contesto internazionale, nel contesto europeo? Ad esempio, Eurostat si sta già attivando su questa strada. Bene, la domanda è interessantissima, anche per svelare che cosa stanno facendo gli altri, diciamo così. L'Istat ha ripreso quasi alla lettera le guidelines di Eurostat, ovviamente adattandole al contesto nazionale, perché noi abbiamo delle peculiarità di cui bisognava tener conto. Relativamente all'accesso da remoto, abbiamo già detto che l'Istat oramai sta completando la sperimentazione, noi l'anno prossimo dovremmo pubblicare il bando e quindi avviare l'accreditamento degli enti di ricerca riconosciuti che faranno richiesta. Cosa sta accadendo a livello internazionale? Eurostat a febbraio di quest'anno, se non sbaglio, sì a febbraio di quest'anno ha chiesto e ha ottenuto dal Comitato del Sistema Statistico Europeo di poter far accedere in remoto i ricercatori di alcuni istituti nazionali di statistica ai Secure Use Files di Eurostat e in questo modo i ricercatori hanno evitato e stanno evitando di andare presso il Safe Center di Lussemburgo, quindi di Eurostat. Quanto invece all'accreditamento si è mosso anche in questo modo, ha creato un gruppo di esperti che hanno cominciato a ragionare e dal punto di vista metodologico, organizzativo, procedurale e non ultimo quello tecnologico ed infrastrutturale e tanto che le guidelines di Eurostat sono state riviste, integrate proprio della parte relativa all'accesso da remoto, quindi con la procedura, gli accordi di accreditamento e la parte proprio tecnologica e infrastrutturale. La curiosità è che credo fine settembre, inizi di ottobre, noi abbiamo ricevuto da Eurostat le nuove linee guida e ci siamo resi conto, confrontandole, che l'Eurostat si stava muovendo parallelamente all'Istat, cioè stiamo andando nella stessa direzione e questo ci conforta, però noi siamo avanti perché mentre Eurostat avvierà la sperimentazione con gli enti di ricerca riconosciuti soltanto a partire dall'anno prossimo, dai primi mesi del 2022, noi invece abbiamo stretto questo rapporto, abbiamo completato la sperimentazione poi con un ente di ricerca riconosciuto quale è Banca d'Italia e con il quale l'Istat da sempre ha un rapporto di collaborazione proficuo. Grazie Maria Assunta della risposta esaustiva che ci fa capire come Istat, Comstat, diciamo a livello Italia, ci stiamo muovendo in linea con ciò che accade anche in Europa. Erika, una domandina anche per te. Nel tuo intervento ci hai descritto la connessione tra la rete dell'ente del sistema titolare dei dati e la rete dell'ente che sarà accreditato da cui i ricercatori potranno accedere da remoto ai dati. In una slide hai fatto anche vedere la connessione con il laboratorio Adele Istat, il laboratorio Adele che come si diceva noi abbiamo da circa 20 anni. Ora vorrei che tu ci chiarissi se un laboratorio da remoto ha necessità come presupposto la costituzione di un ambiente fisico. Mi spiego meglio, noi dell'Istat siamo avvantaggiati, abbiamo già un laboratorio fisico on site e quindi procediamo alla creazione di un accesso da un laboratorio da remoto. Gli altri enti che non hanno a disposizione un ente fisico possono procedere all'implementazione di un laboratorio da remoto? Allora Mara, sì, in realtà sì, perché la direttiva Comstat non impone all'ente System di creare fisicamente nei suoi locali il laboratorio per l'accesso ai dati elementari, ma l'importante è che i dati rimangano sempre all'interno dell'infrastruttura informatica dell'ente System. quindi sì, è possibile creare un laboratorio remoto, ma l'importante è che quel soggetto accreditato si colleghi direttamente alla piattaforma informatica messa a disposizione dall'ente System. Bene, grazie, così abbiamo forse fatto chiarezza su un dubbio che potrebbero avere quegli enti che non hanno a disposizione un laboratorio fisico. Siamo giunti al termine del nostro intervento, ringrazio ancora le nostre relatrici, ringrazio i nostri ascoltatori e segnalando che ovviamente siamo disponibili a rispondere a qualsiasi richiesta di chiarimento, le nostre relatrici nell'ultima slide hanno lasciato anche le loro email. Vi saluto dandovi appuntamento alla conclusione, alla presentazione della conclusione delle nostre attività di sperimentazione e quindi alla apertura del primo laboratorio di accesso ai dati elementari da remoto. Grazie.